Buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandro Ranieri e dalla redazione di Newsmarket.it Eccoci qua in una nuova puntata del nostro TG quotidiano, iniziamo subito dai titoli. Draghiato su un prato, muore schiacciato da un'auto, è avvenuto dopo un rave party in un'ex cava di San Severino. Indesit di nuovo, sciopero a Melano nel Fabrianese, si apre la settimana calda. Presidente del Senato Grasso accende la lampada per l'Italia Loreto, il mondo ha detto ha bisogno di luce. Union Camere Marche, la ripresa non arriva, la produzione industriale è calata del 3% tra aprile e giugno. Iniziamo subito parlando della tragica morte del 18enne di Loro Piceno, Diego Lucchetti, che secondo gli accertamenti si era sdraiato su un prato al buio e probabilmente si è addormentato ed è stato schiacciato da un'opel Corsa Bianca condotta da un ventenne di Monte Lupone che era entrato nel prato per parcheggiare. Entrambi si trovavano lì per un rave party. Nel guidatore e negli amici del ragazzo si sono accorti subito di quello che è successo. La scoperta è avvenuta poco prima dell'alba, quando qualcuno è andato a riprendere la vettura. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Camerino che hanno identificato una cinquantina di partecipanti alla festa. Due i fascicoli aperti, uno per la morte del ragazzo con l'ipotesi di omicidio colposo a carico del ventenne alla guida dell'auto, l'altra per identificare gli organizzatori della festa. Adesso occupiamoci delle notizie in primo piano in provincia di Macerata. Sentiamo Chiara Principe. Grazie per la linea. La regata del Conero di ieri, 184, le imbarcazioni in gara, il colpo d'occhio dal mare guardando verso il passetto era impressionante, non solo per il dispiego di barche ma anche per le tantissime persone che hanno voluto seguire la regata dal monumento più caro ad Ancona, appunto il passetto. E' sempre il passetto è andata in scena, sabato sera però una seguitissima sfilata di moda. L'abbiamo seguita anche noi in diretta su Radio Arancia. 1200 i posti a sedere, in passerella erano 18 le modelle e 4 i modelli che hanno sfilato con gli abiti più importanti delle aziende produttrici sia a livello provinciale che regionale. Ed è tutto a te. E' ricoverato in gravi condizioni, un marocchino di 28 anni, ricoverato appunto all'ospedale di Torrette di Ancona perché preso a pugni la notte scorsa in un locale della Movida di San Benedetto. L'uomo sarebbe stato raggiunto al volto, in particolare da un pugno sferrato, sembra per motivi di gelosia, da un giovane polacco che è stato successivamente arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di San Benedetto del Tronto. Andiamo a Pesaro, sentiamo le ultime novità da Gabriele Grasso. Ben trovati dalla redazione di Pesaro. Un albergatore di Apecchio, Francesco Ianni, 74 anni, è stato sequestrato per tutta la notte da due malviventi che, dopo aver smontato mezza casa alla ricerca di soldi preziosi, si sono dati alla fuga con un bottino di 1000 euro. Fortunatamente Francesco Ianni non ha riportato conseguenze fisiche. Non è la prima volta che l'uomo viene preso di mira da Balordi. E' successo altre tre volte negli ultimi mesi. E' stato forse un malore del conducente Massimo Maroncelli, medico in pensione dell'ospedale di Orbino, a provocare lo spettacolare incidente nel quale è andato distrutto parte del Torrione e San Polo di Orbino. Nel sinistro hanno rischiato di essere coinvolti due turisti che transitavano a piedi in via Saffi. Da Pesaro e tutto, vi restituisco la linea. Ed ora a Senegallia, agli ultimi aggiornamenti dalla redazione di Radio Velluto, Alberto Olivieri. Grazie per il contatto. Buon inizio di settimana. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, la volante del commissariato di Senegallia ha fermato tre soggetti. Due uomini di 47 e 42 anni, entrambi residenti a Mondolfo, e una donna di 32 anni di Senegallia. Tutti conosciuti in quanto tossicodipendenti e con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. Uno di loro aveva in tasca un coltello con lama di oltre 15 centimetri, di cui non ha giustificato il possesso. Il coltello è stato sequestrato e l'uomo denunciato per il porto abusivo di armi. La consulta dei giovani del comune di Corinaldo avrà presto il suo logo, che la caratterizzerà e la renderà immediatamente riconoscibile. Questo infatti sarà scelto nell'ambito di un concorso di idee indetto appositamente dal comune. L'obiettivo, spiega l'assessore alle politiche giovanili, Giorgia Fabri, è di realizzare un logo che identifichi la consulta, nuovo e importante strumento di partecipazione a disposizione dei giovani della nostra città, promuovendo anche la creatività e il senso artistico dei ragazzi. E' tutto, noi ci sentiamo più tardi, vi ricordo il sito radiovelluto.it Molto bene, è tutto per questa edizione, ci ritroviamo qui alle 19. Buona giornata.